10 minuti credo per discorso 10 minuti è poco assai è il tempo che già aspettiamo di norma quindi la punizione della punizione sono messo su un genere, ah io sono sponato col killer praticamente e chi è prima? e non lo so sento solo il raggio di errore speravate che dicessi merdos eh, t e 2 it's merdos mi avete preso in controvieto, sono fregati io sono su un genno ok se ne è andato sarebbe anche piacere questa cosa, sarebbe il kinder da me da bronzio no cazzo è un campanaro che mi ha body bloccato è un merdanaro è un campanmerda è un campanaro è un campanaro vedo si è ancora su di me ma è diventato invisibile non lo so ah è su di me ok sono quasi a metà genno io vuoi essere curato? no no faccio il mio suggerimento vabbè sono in fuga sono passato sul fuoco è nella casetta brown alla tua testa no di fronte a te che hai parto ok e mi perde muy bueno speriamo che non vi è a rompere i coglioni a me che lo sto finendo il suo genno mi segue sulla casa principale noi forse lo chiudiamo qui ce la facciamo ce la facciamo vai vai ahia qualcuno qua si sconnetta no ah bravo non metto e te l'ho lasciato cacchio eh ho scuso le scale e non l'ho più visto è invisibile ragazzi quanti 360 gli sto facendo ragazzi è un baby killer eccolo qua me lo so chiamato hoppola io ho trovato mi sono trovato un gen quasi fatto lo sto finello ok qui sono il gen iniziale bravo mi ha lasciato? chi lo vede? non lo vedo ho lasciato la casa sto tornando dal gepard però penso di essere inutile aia ragazzi questo è tutto scemo comunque sta perdendo tempo se ne fate poppare un altro abbiamo vinto non mi riesce a prendere proprio ok ha visto bravo lungo la strada vai io vi metto sull'ultimo allora chissà te ne ho no ed 100% ragazzi mmm vado un po' per i totem bravo ma io vado un po' a fare il gen sulla casa grande al centro qualcuno l'aveva avviato se mi mettessi a cercare e togliere totem e chi fa l'altro gen? e chi fa l'altro gen? daniele in seguito non c'erano palle vado un po' a fare il gen? io vado per i totem uno per il save uno per il gen vai tu per il save wasteland allora va eh io sono lontanissimo sono a metà gen a pensarci chiudiamo il gen allora dai li chiudiamo tutti e due io sto al 60 e se c'è il no ed? ce lo prendiamo bravo non c'è più niente da fare se aspettiamo perdiamo secondo me forse hai ragione Prizio primo totem tolto qualcuno sta facendo il save sta salendo da me vado per il save vai che lo finisco vai io non posso più finire l'altro ci torno dopo bravo come abbiamo fatto a incontrarci? non si sa mi lascia mi lascia no 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 stai seguendo sempre me vai ottimo bravo riesci a fare il save baby killer bravo ci voglio augurare vieni 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 no maledetto ti curo io ragazzi stop sto per far poppare l'ultimo gen poppate quello sulla casa esatto vai 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 tra manovra è andata male comunque siamo praticamente in faccia all'uscita ok allora che facciamo? uno mi salva tutti gli altri possono pure aprire tutte le uscite io ho adrenalina io ho adrenalina quindi sto a posto si si sta aprendo eccolo qua quanti totem hai tolto bravo? uno uno ok cerchiamo il totem non ci facciamo vedere uscita al 99 ok non l'aprire sono appeso davanti a un'altra uscita non credo che abbia cili o cose così ho trovato la botola ragazzi sono alla ricerca dei totemi siamo tutti nella stessa zona ragazzi si sto cambiando io sto cambiando io sta qua vicino a me lui adesso speriamo che il noido non sia lì come sempre in questo gioco la solita maledizione qua mi sta camperando brutalmente non controllate sulla casa principale mi sta camperando da invisibile ok dove cavolo si nasconde questo maledetto ce n'è vabbè questo è spento mi viene da pensare ma che sta là sta in quei paraggi il totem allora io personalmente non lo vedo però non vuol dire nulla naturalmente no è qui eccolo qua vai 360 un altro 360 vado all'aprire ma che baby killer mamma mia preso è chiaro è altro tempo ragazzi il noed è qua era vicino all'uncino mi curo allora lo viene a controllare prizio no non viene più non viene più e da me ok e mi quando sei curato gay part parte il salvataggio a brown sta venendo da me via sta venendo da me sono inutile eh no se ne ha andato da me è tornato da me sta di fronte a me proprio mi sto curando cazzo è vicino a me non ti far colpire scappa vai lontano mi potete salvare se volete si si no ragazzi è un po' più lontano ora potete salvarlo ci volevo qualcuno all'uscita però se no brown ricada che non c'è il borro però io non so dove è l'uscita vai tu all'uscita io vado a fare il safe vai ce l'ho dietro ce l'ho dietro eh wasteland dove sta la casetta piccola dove sta la casetta piccola io mi sto curando ho perso l'uscita cristo e sono curato ragazzi lo sto loppando quelle proprio me casetta piccola casetta piccola casetta piccola angolo mappa casetta piccola venendo dallo shak verso la casetta piccola a sinistra stanno sulla stessa linea lo shak e la casetta piccola se vi muovete con lo shak alle spalle ok ok stiamo ci siamo non vi vedo ok pardo tu sei allo shak vero si cazzo ma preso ok tutto apposto tutto apposto brown resta all'uscita sono andando a salvarlo aspetta aspetta siamo in tre allora io vado all'uscita io vado all'uscita io vado all'uscita dai facciamo sta staffetta no non è vero vai 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 aperta vai 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 dude chiudete la fila vai che pardo vai che pardo vai che pardo servo un po' di mi servo un po' di prezio minchia saluto e tre inguagliate andata avanti corri 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 the wasteland non ti blocca benissimo amazing very nice ciao no ed perfetto ciao no ed ciao campanaro no ed is not the solution aspetta aspetta the solution you are looking for dude gg 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 Grazie a tutti.